Restate in festa, da bere solo con gli amici. 12 assessori, dei quali massimo 3 esterni. Questa è la proposta di legge del Presidente della Commissione Gian Nicola De Leonardi, se appena approvata dalla Commissione Affari Costituzionali della Regione Puglia. Un taglio ai numeri che comporterebbe, se approvato anche in Consiglio regionale, un risparmio per la prossima legislatura di circa 21 milioni di euro. Il primo passo verso una regione più vicina alla società, secondo il Presidente del Consiglio regionale Onofrio Entrona. Ottimo risultato per il Vice Presidente Antonio Maniglio del Partito Democratico, il quale aggiunge il prossimo passo sarà quello di modificare la legge elettorale, introducendo norme sulla parità di genere con la possibilità della doppia preferenza sul modello della legge della Regione Campania, che obbliga, nel caso di doppia preferenza, all'alternanza di genere. Fra i più critici, invece, rispetto ai tempi troppo stretti adottati nella circostanza, l'Udc, che per bocca del capogruppo Salvatore Negro ha sottolineato l'esigenza di procedere ad una riflessione attenta sui costi della politica a 360 gradi, che non si limitasse alla sola riduzione del numero dei consiglieri regionali. Alla fine, dopo un acceso e dibattito, è arrivata l'intesa sulla quale sia PD che il centrodestra hanno dato il loro assenso. La modifica allo statuto andrà in prima lettura all'esame del Consiglio regionale fissato per lunedì 25 luglio, cui dovrà seguire una seconda lettura dopo non meno di 60 giorni. Le nuove disposizioni avranno applicazione dalla prossima consigliatura. Nel frattempo, i consiglieri regionali del PDL guidati da Rocco Palese ricordano la loro iniziale proposta di una più netta riduzione dei consiglieri da 70 a 50, degli assessori da 14 a 10, di cui non più di due esterni. Ma abbiamo ritenuto di dover dar seguito alle intese possibili, assicurano in una nota, che comunque rappresentano un primo significativo contributo ai sacrifici richiesti alle nostre comunità, in termini di concreta riduzione dei costi della politica. Peccato però che per i cittadini il problema vero non è tanto il numero dei consiglieri quanto il loro guadagno.